E' brutto questo, vero? Non dovevo affrontarlo, vero? No, guarda quanto è brutto LOL Non gli tolgo un cazzo Indietreggia Stolto Ho fatto il perry Ma era uno difficile questo, raga Raga, questo era uno di quelli difficilissimi, o no? Sì o no? GG, GG Ma era uno di quelli difficili, difficili? Sì, perché c'era lo scudo del cavaliere, vero? Davvero, grazie Te lo giuro, è la prima volta che lo faccio Che culo